C'è bisogno di comunione nelle nostre diocesi e non di chiacchiere che distruggono l'unità pastorale. Papa Francesco lo ha ripetuto con forza incontrando i sacerdoti e partecipanti all'Assemblea Internazionale della Confederazione Unione Apostolica del Clero. Riflettendo sul ruolo dei pastori nella, per e con la comunità diocesana, nell'Assemblea si è insistito sulla promozione di una spiritualità di comunione. Nella vita della diocesi, ha chiarito Francesco, il piano pastorale diocesano va anteposto ai programmi delle associazioni e di qualsiasi gruppo particolare. E anche questa unità pastorale di tutti, torno al vescovo, questo farà unità della Chiesa. È molto triste quando in un presbiterio troviamo che questa unità non esiste e apparente. E lì dominano le chiacchiere. Le chiacchiere distruggono la diocesi, distruggono l'unità dei presbiteri, fra loro e col vescovo. Fratelli sacerdoti, io mi raccomando per favore, sempre vediamo cose brutte negli altri, sempre perché le catarate a quest'occhio non vengono, sempre sono, gli occhi sono pronti per vedere le cose brutte, ma non arrivare alle chiacchiere. Se io vedo cose brutte, prego, o come fratello parlo, ma non faccio il terrorista, perché le chiacchiere sono un terrorismo. Le chiacchiere è buttare la bomba, distruggere l'altro e me ne vado tranquillo. Per favore, niente chiacchiere. Sono il tarlo che mangia il tessuto della Chiesa, della Chiesa diocesana, dell'unità fra tutti noi. Grazie. 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 Grazie a tutti.